Per me il caffè incontro è supporto, impegno e soddisfazione. È vita, calore, sostegno e allegria. Sono convinta che il caffè sia terapia perché è sentirsi a proprio agio, è stare tra amici e avere fiducia. Per me il caffè incontro è importante per stare insieme, gratificante e interessante. Per me il caffè incontro è utile, è un modo per confrontarsi con gli altri. Il caffè incontro è stato importante ieri ed è gratificante oggi. Per me il caffè incontro è una sorpresa meravigliosa. Per me è rassicurante. Secondo me il caffè incontro è un momento di spensieramento. È amore, accoglienza, serenità, luce. In una parola una sorpresa. È conforto, casa, relazione. Per me il caffè incontro è un abbraccio pieno di vita. È un successo infinito. È soddisfazione e tenerezza. Il caffè incontro è una battaglia per vivere la normalità e quotidianità. Ed è uno spazio normale. C'è uno spazio in bar.